Per la Nato, dunque, lo avete sentito, arrivano da Cina e Russia le sfide principali alla sicurezza e alle relazioni internazionali. Vedete collegati, eccoli qua, i nostri corrispondenti da Mosca e Pechino. Cominciamo con Giovanna Botteri. La Cina non risponde ancora pubblicamente e ai massimi livelli alle accuse del G7 e della Nato, ma in qualche modo incassa la sua nuova posizione internazionale di paese che sta per diventare la prima potenza economica mondiale e anche, possiamo vedere le immagini, una grande potenza militare perché la Cina potrebbe essere capace di adattare nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale per trasformare la guerra in qualcosa come non si era mai visto finora. Quanto alle accuse sui diritti umani sono fatti interni, ribatte Pechino e sulla pandemia dice dobbiamo lavorare insieme e non politicizzare la questione dell'origine. A te la linea. La Russia cerca di interferire nei processi democratici dei paesi occidentali. Questo, lo avete sentito, è il senso dell'accusa della Nato, ma Putin ostenta sicurezza. Allora, andiamo in diretta con il nostro corrispondente Sergio Pailli. Sì, e soprattutto Vladimir Putin, anche da assente, riesce sempre a catalizzare l'attenzione. Mentre gli altri sono riuniti proprio per parlare di lui, il presidente russo rilascia lunghe interviste alle tv americane in vista del vertice di mercoledì a Ginevra. I rapporti con gli Stati Uniti sono a un punto bassissimo e a Biden, che chiederà conto di interferenze e attacchi informatici, ribatte, sta diventando una farsa. Dove sono le prove? Putin si dice pronto a uno scambio di presunte spie, ma su politica interna e i diritti umani respinge le critiche. Navalny dice sarà trattato come un qualsiasi altro detenuto. Per il momento è tutto. Linea Roma. E in attesa dell'incontro con Putin, il presidente degli Stati Uniti oggi ha affrontato un bilaterale certamente non facile, quello con il turco Erdogan. Il corrispondente.